Grazie a tutti. Grazie al Signor Sindaco e all'Amministrazione Comunale per averci concesso di poter celebrare la nostra festa in questo splendido, magnifico Teatro dell'Unione. Nel concludere vi rinnovo il mio caloroso saluto e il più sentito grazie per la vostra partecipazione. Grazie. Si procede ora alla premiazione del personale che si è distinto in operazioni di polizia e per le quali il Ministero dell'Interno ha concesso particolari riconoscimenti. Evidenziano notevole intuito investigativo e capacità protezionale, partecipavano ad una laboriosa immagine di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia i componenti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Di verbo 24 novembre 2015. Consiglio dei premi al giustizio del giustizio del giustizio del giustizio del giustizio. Grazie. 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 Grazie.